Ha molto colpito la città di Trani la scomparsa all'età di 76 anni dell'avvocato Carmine Perrone Capano, figlio di Federico e cugino di Attilio Junior, una delle figure di maggior rilievo politico e sociale della città. Carmine Perrone Capano è stato infatti non solo uno degli avvocati più importanti del territorio, ma anche una figura di spicco del Partito Comunista Italiano, al quale aderì nei primi anni 70 diventandone consigliere comunale capogruppo per 18 anni, dal 75 al 93 e per due anni dopo la morte di Salvatore Gagliardi, anche segretario cittadino. Competenze e preparazione ne hanno contraddistinto tutta l'azione politica in un'epoca in cui si confrontavano in consiglio comunale alcune delle menti migliori della città. Perrone Capano ebbe inoltre la grandissima capacità di comprendere meglio di tanti suoi compagni l'equilibrio da mantenere nel confronto con un tessuto sociale della città molto particolare che vedeva da un lato una Trani borghese e per molti versi addirittura baronale e dall'altro i ceti popolari con i loro bisogni. Come politico e come avvocato egli ha vissuto sia la Trani da bere, la perla dell'Adriatico, quella della ricchezza legata alla pietra che porta il suo nome al tessile e al calzaturiero, sia la grande crisi con interminabili sequenze di chiusure, fallimenti, impoverimento verticale della città e disperazione delle classi meno abbienti. Perrone Capano è stato infatti uno degli avvocati di punta della CGL, anteponendo spesso gli interessi sociali a quelli personali, assistendo spesso gratuitamente chi si rivolgeva a lui. Il ricordo personale che abbiamo di Carmine Perrone Capano è quello di una persona affabile, disponibile, colta, spiritosa e che non disdegnava da buontranese i piaceri della vita. Quando per politica o per professione ci si è rivolti a lui le risposte sono state immancabilmente positive. I funerali si svolgeranno domani alle 16.30 presso la cripta della Cattedrale di Trani. Alla moglie Rosalba Strippoli e i due figli le condoglianze di Telesveva.